Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash, io sono Glaciosphere e in questo video siamo tornati qui a Fluxopoli dopo aver visitato la zona Safari di Fuxiapoli, la parte appunto aperta per Kalos. La nostra squadra di Pokémon è questa, Gudra a livello 44, Greninja a livello 46, Noebat a livello 36, Talonflame a livello 43 e Hoalucia a livello 44, oltre al solito immancabile Pikachu a livello 71. Dobbiamo riuscire a tirare un po' su questo Noebat, quindi lo mettere davanti e inizierai ad allenarlo come si deve, detto ciò, quindi iniziamo subito il video. Allora, bisogna andare avanti, bisogna andare avanti lungo il percorso 18 e appena usciamo incontriamo Clemond. Glacial, tempismo perfetto, ho bisogno del tuo aiuto per qualcosa. Aspetta, però è un buon moeddo per una battaglia. Ok, chissà cosa ci doveva chiedere, che può aspettare per una battaglia insomma. Bunnelby contro Noebat, vediamo se Noebat riesce perlomeno a battere un Bunnelby. Andrei di... uh no, non riesce sicuramente a batterlo. Guardate lì che danni che fa. Sostituiamolo subito. Allora, lui sarà probabilmente Wild Charge di nuovo, quindi io manderei Gudra per tankare questo colpo. Nel frattempo mentre combattiamo contro Bunnelby di Clemond, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi della serie fino a questo punto e iscrivetevi al canale per non perdervi ovviamente i prossimi caricamenti. Andiamo di acqua tail e tiriamo giù Bunnelby. Condividete anche questo video sui vostri social ai vostri amici magari che potrebbero essere interessati ad un videogioco di questo tipo. Mandiamo Talonflame. E useremo Acrobazia, che basta e avanza per uccidere Chespin. Spero. Perfetto. L'Axray. L'Axray invece è un Pokémon molto piuttosto. Molto molto piuttosto. E chi mando? Manderò Gudra per forza. Tra l'altro devo vedere se posso insegnare Terremoto a Gudra. Non mi ricordo se l'avevo già fatto negli scorsi episodi. Se avevo già provato a vedere se appunto si può insegnare Terremoto a Gudra. Perché ritornerei molto volentieri Dragon Pulse. Oh no, mi paralizza. E mi usa pure Comete. Però dai, l'oltraggio è andato, buono. Dai, non rimanere paralizzato, niente. È rimasto paralizzato e si è pure confuso. Dai, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Mandiamo Pikachu allora. Bella la musica sottofondo, eh? E andiamo di Brick Brack. Perfetto. Nuova batte a livello 37. Gudra a 45. Ed infine Deden. Contro Deden io manderei Paoluccia. E andrei di Poison Jab, super efficace. Perfetto. Abbiamo battuto Clemon. Aspetta un attimo, ci dice. Aspetta, fermo. Uno strano gruppo di uomini ha attaccato Bonny e non sono riuscito a trovarla. Attenzione. Per favore, aiutami a cercarla. È impazzito Clemon. Dove va? Beh, nel frattempo prima vado a curarmi i Pokémon. Sai, Clemon o Lem, non è proprio utile distruggere la squadra del tizio che dovrebbe aiutarti a cercare tua sorella, no? Perché poi deve andarsela a curare. Non è proprio il massimo come piano, che ne dite? Non è che... Insomma, dovresti perlomeno curarmela la squadra, no? È impazzito, guarda, è impazzito, dovrebbe essere qui da qualche parte. Ma viene con me, lui? Sì, viene con me, solo che continua a muoversi a caso. Ok, diamo un'occhiata a questo percorso. Allora, non dovrebbero esserci Pokémon nuovi qui. E qui sopra, uh, gente del Team Flare. Parecchia gente del Team Flare. Andrei davanti con Lucia. Team Flare dovrebbe avere Pokémon di tipo fuoco, credo. Stavo per dire acqua, vabbè. E volevo vedere anche se posso insegnare terremoto, un secondo, eh. Fatemi vedere tanto è qui. Dai, dimmi che puoi impararlo Gudra. Sì, lo puoi imparare, bene, glielo insegno subito. Togliamogli Dragon Pulse. Tanto useremo poltraggio se ci sarebbe una mossa di tipo Drago. Ecco fatto. Gudra sicuramente molto meglio con il buon terremoto. E poi, sinceramente, io un ritorno lo insegnerei Noibat. Però devo vedere esattamente se è più un attaccante fisico speciale, lui. È speciale, ok, perfetto. perfetto, perfetto, perfetto. È speciale, quindi devo insegnargli roba speciale. Tosto, eh, tosto. Perché non abbiamo troppa roba speciale. No, beh, forse abbiamo Energy Sfera che potrebbe impararla. Vediamo dov'è, dov'è, dov'è. Energy Ball, eccola qua. Energy Palla. No, non puoi impararla, peccato. Vediamo un po' se abbiamo qualcos'altro che potremmo insegnare di Overheat, che sarebbe vampata nemmeno. Echoed Voice, forse sì. Sì, Echoed Voice sì. Però è solamente 40 di potenza, davvero scarso, eh. Round forse toglie un po' di più. Round mi sembra toglie a 70. 60, vorrei dire. Round è meglio. Sicuramente meglio di Morso, che tanto non useremo mai. Ok. Vediamo un po' se possiamo mettere di qualcos'altro, eh. Oltraggio? No, oltraggio è fisico. Skull dovrebbe essere speciale. Vi non puoi imparare? No. Puoi imparare un cavolo, sto cavolo di Noebat. Skydrop. Wash. Vediamo un po', eh. Ghiropolo è speciale, eh. Però non puoi impararlo, ovviamente no. Vediamo, vediamo, vediamo. Frost Breath? Nemmeno. Posso trovare nelle mosse interessanti, speciali. Flash Cannon? Non penso possa impararlo, appunto. Bubble Beam? Non credo, sinceramente. Appunto. Zap Cannon? No, di non insegnare comunque, ma non puoi impararlo. Air Slash? Tecnicamente lo puoi imparare. Però dovrebbe averlo già, no? Ah no, Air Cutter. Air Slash è un po' meglio. Beh, togliamogli, lo mettiamo gli Air Cutter. Vai. Ok. Cioè, mettiamogli Air Slash al posto di Air Cutter. Almeno un po' migliore. Poi, vediamo un po', eh. Stemitraglia? Non penso possa impararlo, appunto. E poi mi sa che pure fisica. Water Pulse? Non credo, sinceramente. Mossa di tipo, ah, puoi impararlo Water Pulse? Non è che magari puoi imparare anche Surf? Allora, vedremo, eh. Shock Wave? Che sarebbe onda Shock, credo. No, non può impararlo. Hmm. Nel stesso Surf può impararlo? No. Può imparare però l'Hidro Pulsar, il che non è male. Sinceramente, l'Hidro Pulsar non è... Dark Pulse può impararlo, vediamo. Perché questo non sarebbe per niente male. Uh, subito, subito. Dark Pulse subito al posto di Acrobazia. Tanto è Air Slash. Ok. E, sinceramente, io un Water Pulse gli ho insegno, dato che saremo per battere... Siamo per affrontare dei Pokémon di tipo fuoco, molto probabilmente, eh. E un Water Pulse non è male. Quasi quasi li toglierei round. E li lascerei Water Pulse come mossa... Ma sì, dai, togliamoli round. Hyperfang lo tengo comunque perché potrebbe risultare utile in alcuni casi. Abbassare subito a metà la vita dell'avversario. E proviamo a combattere un po' con il nostro nuovo Noibat. Queste reclute del Team Flare. Vediamo che... Pokémon hanno. Ecco, non mi è mai piaciuto l'abbigliamento del Team Flare, sinceramente. Questo vestito elegante... Non è molto interessante. Allora, Water Pulse. Niente, Fall Plane ha disintegrato. Mentre noi non riusciamo a fare abbastanza danno. Ok, togliamolo subito. Abbiamo capito che non è cosa. E mandiamo in campo Wolucia. Andiamo di Flank Press. Golbat. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Gudra. Con Fulmine. Non penso riesco a one-shotarlo, sinceramente. Però a B-shotarlo sicuramente sì. Appunto. Non farmi tentennare, grazie. Abbiamo sconfitto la prima recluta del Team Flare. Ryan. Cambiamo Pokémon e mettiamo davanti... Beh, deve mettere davanti Gudra. Ci sta. Insieme a Dauluccia. Andiamo. Hold it. Chris, che manda in campo su Allot. Beh, Terremoto e addio. Fa male, eh? Fa male Terremoto. Non è Stub, quindi non fa troppo male. Gudra non è un Pokémon che ha un attacco particolarmente elevato, però fa male. Scraggy. Contro Scraggy manderei Talonflame. E andiamo di Acrobazia. Perfetto, abbiamo battuto anche lui. Proseguiamo. Not another step. Attenzione. Non un altro passo. Ci dice Ralph. Con Krogan. E si becca un altro terremoto. Super efficace. E questa volta viene one-shotato. Oh, eh oh. Oh, oh. Ed eccola qua la sorellina di... Lem. Qui troviamo Incinerate. Anzi, Incinerate. Grazie per avermi salvato, Glacial. I think they are after a little green Pokémon I found the other day. Attenzione. Pensa che stiano cercando un piccolo Pokémon verde che ha trovato l'altro giorno. Non siamo riusciti a capire che Pokémon sia, tuttavia. Lo terrò al sicuro, non preoccuparti. Ora tornerò da Clemonte, ovvero da Lem. Grazie ancora. Perfetto. Quindi possiamo proseguire. Sì, ora qui non c'è più un tizio del Team Flare, ma c'è un Karateka che potremmo superare, immagino. Io però vorrei andare a prendere anche questo tipo qui. Come hai trovato questo posto? Eh, mi spiace, caro. Io sono saltato letteralmente in testa a Jaden. Che ma nel campo Scoriped? Che si beccherà un bel earthquake. Proviamo con un oltraggio. Magari gli togliamo un po' di più. Buono, buono, buono. Livello 46 per Gudra. Finseer che si becca un altro oltraggio. Vita al tiro ci ammazza, sì. Vabbè, ci sta. Ci sta, ci sta. Ma andiamo in campo a questo punto. Proviamo con noi, battere. Nianza è abbastanza veloce da tirargli un bel Air Slash e ucciderlo. No, niente. Neubat continua a morire, ragazzi. Cioè, finché non si evolve in Neuver, ne è praticamente inutilizzabile. Andiamo di Acrobazia. Ninjaskar, lasciamo Talonflame. E andiamo ancora di Acrobazia. Weekend. Ma prendiamoci questo strumento con una iperpozione. Speravo in qualcosa di meglio. Torniamo su. Pokémon selvatico, veniamo se qualcuno di nuovo. Oh, bello Flireon. Però ce l'abbiamo già. Quindi non è di nostro interesse. A questo punto torniamo velocemente a curarci Pokémon. Non sto a tagliare perché il centro Pokémon è letteralmente qui. Quindi non c'è molto da fare. Di strano. E una volta curati Pokémon possiamo proseguire. Proseguire lungo il percorso 18. E arrivare eventualmente al Ponte Mosaico. Vediamo, eh. Se di adesso riusciamo a fare tutto in questa parte. Vediamo se possiamo mettere davanti Noibat e farlo combattere effettivamente contro qualcuno. Did I surprise you? No, non mi è sorpreso. Ma forse perché si è cambiato prima ero un tizio del coso. Ah, Greninja? Attenzione. No, assolutamente no contro Greninja, no. Tipo Acqua Buio. Manderei Paoluccia. Quick Attack, va bene. E andiamo di Flying Cress. Water Shuriken ci colpirà da 2 a 5 volte. 3 volte, va bene. Flying Cress ha fatto malissimo a Greninja. Malissimo. No Abazzala a livello 39 finalmente. Aoluccia invece è a livello 45. I come from the ninja village. It is close to here. Attenzione. Raggiungeremo un villaggio dai ninja. Allora. Mandiamo in campo. Talon Flaming. E nel villaggio dai ninja potremmo prendere qualcosa di molto interessante, eh. Sfidiamo questi due in doppio. Qualcosa che sono sicuro molti di voi stanno aspettando dall'inizio di Kalos. Mandiamo in campo Greninja e Venusaur. Perché un ninja dovrebbe avere Venusaur come Pokémon? Non facciamoci domande. Allora. Andiamo con Air Slash su Venusaur. E Acrobazia, sempre su Venusaur. Facciamo il doppio focus. Eh, vedi. Non è morto di pochissimo. Mi ha fatto bene a fare il doppio focus su Venusaur. No Abazzala a livello 40. Vorrebbe imparare Screech che sarebbe Stredio. No, grazie. E Talon Flaming al 45. Ora tocca colpire Greninja. Che ha appena fatto, tra l'altro, doppio team. Quindi sarà tosta buttare giù quel tipo. Andiamo ancora ad Acrobazia. Niente, il Night Slash mi ha one-shotato Noibat. L'avremmo forse ucciso? No, perché con Hyper Fang avrebbe tolto metà degli HP attuali. Quindi non credo. Allora, mandiamo a questo punto con Lucia. Che deve farsi un livellino. E andiamo di Acrobazia e Acrobazia. Doppio Acrobazia. Attenzione, Water Shuriken. Molto veloce con il Greninja. Fortunatamente ci colpisce solo due volte. E riusciamo a tirarlo giù. Perfetto. Ah, qui abbiamo altri allenatori. Vi farei risuscitare a questo punto il buon tipo qui. Noibat. Ecco fatto. E darei una curatina ai nostri Pokémon senza tornare al centro Pokémon. Basta. Ecco, bastano un paio di pozzoncine così. Qui dentro entrateci. Perché è molto importante che voi entriate e mettiate Greninja al primo posto. E parlando con questo ninja... Long have I waited for the perfect Greninja to appear. Ho aspettato a lungo. Affinché il Greninja perfetto apparisse. Magari sarà il tuo? È lui! È proprio lui! Lasciami sbloccare il suo pieno potenziale. Sì. Tu e il tuo Greninja ora avete un nuovo potere. Insieme. Usatelo per bene. Ma... Ha cambiato qualcosa, effettivamente. Non dovrebbe darmi uno strumento, lui. Vediamo. Non dovrebbe darmi tecnicamente uno Shuriken. Beh, lo proviamo a questo punto subito in questa battaglia. Diamo un'occhiata, eh. Diamo un'occhiata. Perché se non sbagli lui avrebbe dovuto darci uno Shuriken. Per poterlo far diventare in forma Greninja di Ash. Vediamo. Ma a me non sembra cambiato, sinceramente. Ah, poi sembra cambiato? Non è che magari è un bug, eh? Non saprei. E non mi sembra particolarmente più forte di prima. Vediamo, eh. Perché se faccio summary... È un Greninja normalissimo. Defeating a foe, let's it become Ash Greninja. Ah, quindi magari prima deve sconfiggere un nemico. Per poi diventare appunto il Greninja di Ash. Quella forma lì, eh. Proviamolo, proviamolo. Intanto abbiamo trovato questo PP App. Tu sei un allenatore, dimmi che hai almeno due Pokémon. Così almeno posso provare questa cosa. Ok, due Pokémon. Vediamo. Il primo è Stamfisk, quindi non proprio l'ideale per Greninja. Però se la caverà. Va di Dark Pulse. Ancora Dark Pulse. Di Water, va bene. Dai, la precisione che è calata. Che palle. Andiamo di superpozione. Tanto questo turno è sprecato. Ecco. E ora colpiscilo però, grazie. Vediamo se può ora diventare il Greninja di Ash. Ecco, ecco. È diventato Carico. Ed è diventato il Greninja di Ash. Eccolo qui. Trovato finalmente. Flygon. Lasciamo Greninja. E andiamo di Surf. Dai, ha fallito di nuovo. Bug Bats. Va bene. Surf. Che mi aspettavo più forte, sinceramente. Andiamo di Water Pulse. Però, finalmente, abbiamo il Greninja di Ash. Che immagino sia una sorta di mega evoluzione. Quindi, dopo la battaglia, torna normale, no? Vediamo. Summary. Sì, ok. Dopo la battaglia, torna normale. Però, abbiamo finalmente visto il Greninja di Ash. Pokémon che molti di voi stavano aspettando fin dall'inizio. Vi vedevo nei commenti, no? Ash forma... E Greninja forma Ash. Greninja, sì. Vedrai Greninja. Eccolo qui, finalmente. Allora, mettiamo Wolucia come secondo Pokémon, nel caso di una lotta in doppio. E andiamo a sfidare questo Karateka. I will crush you, ci dice. Va bene, crushami. Ma nel campo Weavile... E ne abbiamo Noibat. Non è l'ideale, questa cosa. Non è per niente l'ideale. Cambiamo immediatamente Pokémon e mandiamo Wolucia. Anche Wolucia non è l'ideale, però d'altronde poi, il tipo ghiaccio, questa squadra lo soffre tantissimo. Cioè, sono tutti deboli al tipo ghiaccio, è una cosa assurda. E infatti vengono disintegrati. Cioè, se ci fate caso, Wolucia è deboli al tipo ghiaccio. Noibat è deboli al tipo ghiaccio. Gudra è deboli al tipo ghiaccio. Talonflame è normale al tipo ghiaccio. Quindi useremo lui. E Greninja è l'unico che resiste al tipo ghiaccio. L'unico di tutto, tra tutti. Ma andiamo di Flame Charge. Vai, ancora Flame Charge. E l'importante è che Noibat continua a prendere punti esperienza. Per poi eventualmente evolversi. Allora, altra allenatrice? Sì, vai, sfidiamola. Stara, questa è italiana. Granbull, tipo lotta a folletto forse. Che è con Intimidate. Usiamo Super Fang. Tiriamolo giù a metà vita. Ok, lui inizia con Rage. Io poi andrei di Air Slash, allora. Azza, ho fatto malissimo. Andiamo di Gudra. Rage non ci farà nulla. Perfetto. E andiamo di Aquatail. Poi The Den. Cambiare Pokémon e mandarei a Ulucia. Se solo fosse vivo. No, volevo mandare Talonflame. Ho premuto B per sbaglio. E a questo punto lo tiriamo giù con Earthquake. Addio The Den. Ok. Prendiamoci questo strumento. E3 Max. E lì finisce il percorso. Ma come si può arrivare qui sopra? Cioè, quel tipo lì è incastrato? Forse è dal basso. Forse è da Courway Town. Se può arrivare su. No, quel tipo è... È incastrato là sopra. Non potrà mai più scendere. Andiamo una curata un attimo ai nostri Pokémon. Poi voglio tornare a vedere un po' come è la situazione di sopra. Perché magari mi sono perso io. Un passaggino, eh. Vediamo su. Perlomeno ora ho i Pokémon curati. Ma non mi sembra di essermi perso nulla. Eh, get over there. Don't worry. Lui salirà lì. No, mi sa che è tipo un meme che hanno messo qui. Cioè, è il tipo che non... È il tipo che non... Che non riesce a scendere. How do I scale this cliff? Sì, infatti. Però possiamo sfidarlo. Ok, possiamo sfidarlo se aspettiamo che arrivi l'Oa al bordo e li parliamo. Ma nel campo Stamfisk noi abbiamo Noibat. Ok, sono dei livelli uguali ora. Per me però Stamfisk tira un attacco di tipo elettro e ci distrugge Noibat. Sicuro. Quindi cambiamo Pokémon e mandiamo Gudra. Così almeno Noibat salirà a livello 42. A che livello si evolve Noivern? Cioè, Noibat in Noivern. Che non ricordo di preciso. Usiamo Heartquake che è super efficace. Electric Terrain. Ok. E andiamo poi di oltraggio. Che è Noibat a livello 42. Flygon che si becca un oltraggio. E mi spiace Flygon. Super efficace, addio. Perfetto. Get over there, don't worry. Sì, sì, questi sono tutti incastrati nelle loro scalate. A questo punto, ragazzi, direi di andare a curare i nostri Pokémon. Eccoci qui. Ecco fatto. Ed anche per questa parte, quindi, è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito questo video. Nel prossimo esploreremo Ponte Miraggio, anzi, Ponte Mosaico, scusatemi, questo villaggio. E proseguiremo la nostra avventura. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.